invito subito il primo artista in rassegna stasera Omar Guidetti allora ecco Omar, due parole velocissime, tu da dove arrivi? provincia di Ferrara e porto questa canzone che ho scritto io con un amico, si chiama America cosa ti ha fatto decidere di essere qui con noi stasera? vi ho conosciuto tramite i social e quindi ho visto che era una cosa molto interessante e mi sono iscritto per quello e a noi fa piacere averti qui, grazie titolo del brano e via America ho scritto parole sui fogli che il vento ha preso ed ha portato con sé ho provato a costruire castelli pur di avere un futuro con te erano castelli di carta che con un soffio hai buttato giù ma pur d'averti al mio fianco avrei sfidato l'America mi sento come un calciatore mi sento come un calciatore che ha preso le scarca dove non so oppure come un calciatore che cerca la preda dentro allo zoo dove la scelta è tanta ma nulla puoi cambiare però ma pur d'averti al mio fianco avrei sfidato l'America oggi fuori nevica è una mano di ghiaccio che scivola e si ferma dentro l'anima ho trovato di nuovo quei fogli che il vento ha preso ed ha portato con sé le parole sembravano cambiate non erano scritte da me sarà stato quel cacciatore oppure quell'altro non so ma pur d'averti al mio fianco avrei sfidato l'America oggi fuori nevica è una mano di ghiaccio che scivola e si ferma dentro l'anima se ti ha dato troppo non merita la rabbia che ho dentro lievita oggi che fuori nevica oh no oh no oh no non è bastato quello che ho non è servito ora lo so resta solo un tuo ricordo che a volte fa anche male un po' ma pur d'averti al mio fianco avrei bruciato l'America oggi fuori nevica è una mano di ghiaccio che scivola e si ferma dentro l'anima l'anima ho trovato di nuovo quei fogli che il vento prende e riporta da te grazie grazie